Sono un copione, ma se mi conosci già lo sai che ho il brutto vizio di salire sulle spalle dei giganti, no? Il titolo l'ho rubato a Biasci, che si esprime così nel testo Project Nutrition e che continua poche righe dopo spiegando meglio la sua lapidaria affermazione. Se come mangi oggi non mangerai per il resto della tua vita, i risultati ottenuti sarai destinato a perderli. Tralasciando per un attimo l'invidia che provo, tanto verso le sue competenze quanto per la sua capacità di sintesi, credo che possa essere utile entrare nel merito della questione per ribadire giusto un paio di punti importanti. Per comprendere più a fondo i meccanismi biochimici che si celano dietro la dieta chetogenica, ti rimando a uno qualsiasi dei mille mila contenuti che trovi in rete. Ma se non ne avessi mai sentito parlare, beh, ti basti sapere che si tratta sostanzialmente di un approccio alimentare che ruota intorno a una drastica riduzione delle fonti di carboidrati, allo scopo di forzare la mano al tuo corpo e costringerla a usare quasi esclusivamente i grassi come combustibile energetico, grassi che quindi andranno a costituire la parte preponderante delle tue calorie giornaliere o, insomma, niente più pane, pasta, cereali e legumi e via libera di alimenti grassi come carne, uova, pesce e frutti di mare, semi e frutta secca a guscio, oli e simili e latticini più grassi. Non sono contrario nel senso assoluto alle diete chetogeniche, beh, non più perlomeno, ma parafrasando il dottor Raggi in un interessante scambio pubblicato sulla rivista Aterosclerosis, io sono un po' scettico verso approcci restrittivi, a cui preferisco invece la moderazione ottenuta attraverso diete che possano essere prima di tutto piacevoli e, proprio per questo, più semplici da seguire non a lungo termine, no no, ma per sempre, più una dieta è restrittiva, più ti sembrerà paradossalmente facile da seguire, perché le regole severe ben definite eliminano la maggior parte dei dubbi che potresti avere sulla scelta del cibo. Questa semplicità si traduce tuttavia in un costo elevato in termini di rigidità e monotonia della dieta, che può diventare rapidamente noiosa e psicologicamente frustrante, influenzando anche la partecipazione ai venti sociali o pasti condivisi con familiari e amici. In rete puoi facilmente trovare migliaia di articoli che ti spiegheranno con dovizia di particolari vantaggi della dieta chetogenica e quindi non mi soffermerò su questi né entrerò nel merito dei paragoni con un più bilanciato approccio mediterraneo. Ma poiché la letteratura ci dimostra che una certa percentuale di persone, in specifiche condizioni, si trova meglio con la dieta chetogenica, ad esempio quando si tratta di perdere peso, è utile a mio avviso comprenderne alcuni limiti che nei contenuti divulgativi più o meno dichiaratamente pro-cheto spesso vengono sottovalutati. Ecco, a proposito di dimagrimento e letteratura scientifica, è un dato di fatto che il problema non è tanto perdere peso, ma mantenere poi i risultati raggiunti nel tempo e immagino che sia proprio questa considerazione a spingere Biasci a chiarire che se il modo in cui mangi oggi non è sostenibile per il resto della tua vita, allora è probabile che perderai i benefici o i risultati che hai ottenuto magari con tanta fatica. Uno dei problemi noti della dieta chetogenica è proprio questo, la sostenibilità nel tempo, ci sono eccezioni ovviamente, ma per la maggior parte delle persone seguire per sempre una dieta così restrittiva è un ostacolo davvero insormontabile, o magari tu sei un'eccezione, ma credimi, per la maggior parte degli altri è insostenibile a lungo termine. Oltretutto, se in una dieta bilanciata un occasionale sgarro viene sostanzialmente diluito senza particolari conseguenze, nel caso della chetogenica la perturbazione dell'equilibrio biochimico può avere un impatto più profondo, immediato, che potrebbe spiazzare se non ne sei consapevole. Nella mia concezione dell'alimentazione l'idea di essere a dieta non esiste, lasciando il posto a un approccio più olistico, uno stile di vita sano e sostenibile nel tempo, fondato su un equilibrio magari dinamico tra libertà alimentare e buonsenso. Questo si basa sull'apprendimento di quelle poche nozioni fondamentali che guidano verso il mantenimento di un benessere fisico e psicologico duraturo, integrando armoniosamente la nutrizione nel contesto di una vita che sia piena e soddisfacente. Poniamo comunque che tu abbia deciso di optare per la chetogenica per perdere peso e abbia raggiunto il tuo obiettivo con grande volontà e sacrificio, è il momento di tornare a un'alimentazione più varia ed equilibrata, che possa essere sostenibile nel tempo e che ti consente di mantenere il peso raggiunto per sempre. Sei sicura di sapere come fare a impostare questa nuova fase? Una fase che dovrebbe idealmente essere l'inizio del resto della tua vita, di tutta la tua vita. Perché se l'idea è di ricominciare a mangiare come prima della dieta, anche il peso tornerà a quello di prima, anzi probabilmente anche peggio. Ed ecco perché in quel momento, quando avrai raggiunto il risultato o semplicemente ti sarai stufata, dovrai già avere pronto un piano alternativo. Questa è la ragione principale per cui, a mio modesto avviso e con tutti i limiti delle mie competenze, la dieta chetogenica ha senso solo quando si sia sotto la guida di un nutrizionista o quando si abbiano davvero le idee chiare in proposito, senza dimenticare che ad oggi non ci sono prove della sua superiorità rispetto ad esempio a un approccio mediterraneo, rendendo quindi la scelta di optare per la prima una mera questione di preferenza e attitudine personale. Ti faccio poi notare un secondo aspetto importante. Così come una dieta vegana sana non è semplicemente la tua dieta attuale da cui togli carne e derivate animali, così una dieta chetogenica ragionevole non può essere semplicemente quello che mangi adesso senza pane e pasta. Le diete che siano in qualche modo restrittive dovrebbero essere SEMPRE somministrate attraverso un'adeguata guida professionale. Ad esempio, esiste un rischio molto elevato di vedere schizzare verso l'alto il colesterolo e l'EDL, quello che è probabilmente il fattore di rischio numero uno per eventi cardiovascolari, per non parlare della possibilità di andare incontro anche a carenze alimentari legate ai minerali e alle vitamine normalmente assunte attraverso i cereali e per tacere della fibra, la cui copertura del fabbisogno giornaliero diventa sostanzialmente un miraggio. Vale infine la pena di ricordare che non esistono ad oggi evidenze definitive né sui vantaggi di salute né tantomeno sulla sicurezza a lungo termine di un approccio così spinto, e questo nonostante l'introduzione in clinica circa un secolo fa. A proposito di clinica, se soffri di una qualsiasi malattia cronica diventa imprescindibile un preventivo parere medico. Il mio consiglio è quindi di considerare la chetogenica un possibile strumento, caratterizzato da un suo specifico profilo che comprende vantaggi, rischi e controindicazioni, diffida da chi te la vende come soluzione ideale a prescindere perché non è questo che emerge dalla letteratura attualmente disponibile. E anche se adesso ti sembra di essere in grado di poter accettarne le restrizioni senza troppa difficoltà per tutto il resto della tua vita, credimi, l'esperienza insegna che probabilmente non sarà così. O, questo non esclude che possa comunque essere un regime alimentare utile, efficace in certi contesti, ma è davvero importante essere consapevoli per essere pronti al probabile dopo. Grazie, grazie, grazie di cuore per la tua attenzione e la tua fiducia, però ricorda che uno sconosciuto su internet non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo nutrizionista, perché solo loro possono tenere conto di tue specifiche esigenze e agire di conseguenza. Grazie ancora, ciao. Grazie. Grazie.